Ciao a tutti ragazzi! Come state? Benvenuti a questo nuovo video! Oggi andrò a risolvere un cubo, ma prima di riaprire questo bel pacchetto arrivato direttamente dalla Grecia. E voilà! Eccolo qui raga! Posso semplicemente dire che figata! È un gioiello, uno spettacolo! Quasi mi vuole il cuore a togliere dalla scatola! Cioè raga, guardate con che facilità si apre la scatola! Ed ecco qui il cubo unboxato! Raga, questo cubo secondo me è assolutamente spettacolare! Non vedo l'ora di mischiarlo, risolverlo e giocarci, ma prima ve lo mostro un po' più da vicino! Ebbene sì ragazzi, oggi risolverò un cubo a tema Pokémon! Devo dire che questo cubo è di altissima qualità, infatti dal punto di vista della scorevolezza e della giocabilità è semplicemente fenomenale! D'altronde dovevo aspettarmelo dato che si tratta di un prodotto della V-Cube, ovvero la stessa azienda che ha prodotto il cubo di Van Gogh che vi mostrei tempo fa sempre qui sul canale! Questo cubo è molto bello perché tra le altre cose rispetta il color scheme di un classico cubo di Rubik! Infatti qui abbiamo la faccia bianca, con sopra riportato Ash, il protagonista della serie animata, poi abbiamo sulla faccia opposta, ovvero sulla faccia gialla, un tenerissimo Pikachu! Infine sulle quattro facce rimanenti abbiamo una Pokéball sulla faccia rossa e poi gli starter di prima generazione, ovvero Bulbasaur sulla faccia verde, poi abbiamo Charmander sulla faccia arancione e infine Squirtle sulla faccia azzurra! Ora, raga, io non sto più nella pelle, quindi direi di non perdere altro tempo e di passare subito alla risoluzione del cubo! E iniziamo la risoluzione! Allora, vediamo come è messa la faccia bianca! Ok, questo è il centro bianco orientato correttamente, adesso andiamo alla ricerca di tutti i vari spigoli e formiamo la croce bianca! Ok, questo è il primo pezzo già sistemato correttamente, quello superiore, vediamo un po' di trovare gli altri, ok, questo è il pezzo che va a destra, quindi così, perfetto! Ora, questo qui è il pezzo che va a sinistra, quindi in questo modo è sistemato, ok, e qui, ok, abbiamo anche il pezzo inferiore, perfetto! Croce bianca fatta, ora devo assicurarmi che sia fatta bene, quindi, ok, in questo modo abbiamo la corrispondenza rosso-rosso, quindi è sistemata e fatta bene! E possiamo partire con l'F2L, allora, consideriamo quest'angolo qui, ah, perfetto! Abbiamo già appena la coppia, solo che va sistemata, qui abbiamo lo spigolo rosso-blu e qui abbiamo l'angolo corrispondente, allora, vediamo un po'! Ok, prima coppia attuale sistemata, vediamo che è la seconda, ok, qui abbiamo lo spigolo rosso-verde e qui il corrispondente angolo, perfetto! Quindi facciamo così, seconda coppia F2L sistemata, andiamo a caccia della terza, vediamo un po'! Coppiamo! Coppico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando condigliatelo sui vostri social per farlo vedere a tutti. Dovete sapere che questo cubo non si trova in commercio, infatti l'ho progettato io e adesso vi mostro come ho fatto. Ciao ragazzi, sono sulla pagina web di V-Cube per mostrarvi come ho realizzato il cubo Pokémon. Dopo esservi registrati o aver effettuato il login nel caso lo poste già, vi basterà cliccare sulla voce Create Your Cube per essere rimandati alla pagina corrente. Una volta arrivati qui potrete cliccare sul modello di cubo che volete realizzare se 2x2 o 3x3 e rispettivamente per ognuno di essi potete scegliere se realizzarlo con la forma classica oppure bombata. Vi consiglio di cliccare su Show Tutorial per ulteriori dettagli. Adesso passiamo al cubo Pokémon. Dunque, per prima cosa selezioniamo il modello. Io chiaramente ho scelto il 3x3 classico. Una volta selezionato il modello del cubo che intendiamo realizzare ci basterà scendere qui in basso, spuntare la casella I have the right to use these images e cliccare su Upload Image. Fatto ciò, entrate nella cartella in cui avete salvato tutte le varie immagini che andranno a costituire le facce del cubo e selezionatele una alla volta. Una volta caricate tutte le immagini, quello che dovremo fare sarà semplicemente applicarle alle corrispondenti facce in modo da realizzare il cubo così come da noi desiderato. Per fare ciò facciamo riferimento alla Current Design Area. Qui, come potete vedere, è riportato il cubo aperto con le facce numerate da 1 a 6. Come prima cosa vado in corrispondenza della faccia indicata con il numero 6, ci clicco sopra con il tasto sinistro, scelgo la prima immagine che voglio caricare, ossia quella che finirà in basso, cioè quella con Ash, questa qui. Clicco con il tasto sinistro e l'immagine viene per l'appunto caricata. Una volta caricata l'immagine, ciò che andrà fatto per ogni singola immagine sarà scorrere in basso e andare a cliccare nell'angolo in basso a sinistra sul simbolo del visto. In questo modo. Fatto. Sopra la faccia bianca si trova la faccia rossa, quindi cosa faccio? Clicco sulla faccia con il numero 2 sopra, vado in corrispondenza dell'immagine con la Pokeball, clicco con il tasto sinistro e la applico come fatto in precedenza. Adesso, sopra la faccia rossa si trova la faccia gialla, quindi clicco in corrispondenza della faccia con il numero 5 e seleziono l'immagine con Pikachu e l'applico. A sinistra della faccia rossa abbiamo la faccia azzurra, quindi clicco sulla faccia con l'1 e poi sull'immagine con Squirtle e l'applico. A destra della faccia rossa abbiamo la faccia verde, quindi clicco sulla faccia con il numero 3 e poi sull'immagine con Dubasaur e l'applico. Ed infine clicco sull'ultima faccia rimasta, ossia quella con il numero 4 che sarà apposta a quella con il numero 2, scelgo l'immagine con Charmander e l'applico. Perfetto, adesso tutte le immagini sono state caricate ed è corrispettato il classico color scheme di un cubo di Rubik 3x3. Una volta caricate tutte le immagini sarà possibile scorrere in basso e cliccare sul 3D preview per vedere il cubo che abbiamo progettato. Come potete vedere è lo stesso identico cubo che vi ho mostrato io. Dopo esserci accertati che il cubo sia effettivamente quello da noi serato, ci basterà semplicemente scorrere verso l'alto, ci basterà semplicemente cliccare su Save Cube, inserire un nome del cubo che abbiamo progettato, ordinarlo e farcelo comodamente spedire a casa. Il cubo costa circa 15€, a cui vanno sommati circa 7,8€ di spedizione, per un totale di circa 22,23€. Mi rendo conto che sia una spesa piuttosto onerosa, tuttavia secondo me considerando 1 i tempi di spedizione, ossia il fatto che il cubo mi sia arrivato in appena 5 giorni lavorativi, 2 considerando il packaging, ovvero quello che vi ho mostrato all'inizio video e soprattutto considerando 3 la qualità del cubo stesso, secondo me quei soldi li vale a tutti. Detto questo, se qualcuno fosse interessato o ad acquistare o eventualmente regalare a qualcun altro il cubo che vi ho mostrato, può continuamente mandarmi un messaggio privato su uno dei miei social con il proprio indirizzo email. Io provvederò a rispondere con un'altra email allegando tutte le immagini che compongono il cubo, in modo che possiate ricostruirlo con la procedura che vi ho mostrato. Vi lascio inoltre sempre qui sotto in descrizione il link per il sito di Btube. Io con questo ho concluso, quindi non mi resta altro da fare che ringraziarvi per la cortesa e attenzione e augurare a tutti voi un buon prossimamente di giornata. Ciao ragazzi, a questo nuovo video!